Nella spigolatura numero 8 abbiamo proposto alcuni confronti tra tipologie di strade milanesi nel 1346. In questo video analizzeremo invece le tre strade che solcavano il territorio delimitato a ovest dalle sponde del fiume Lambro, a nord dalle alture della Valassina e del Monte Barro e a est dalla sponda destra del fiume Adda e al sud dalla pianura milanese. Cuore di questo territorio sono le basse colline al confine delle odierne province di Monza e di Lecco e le alte colline lecchesi della Brianza, divise tra loro dalle valli di Rovagnate che nel secolo successivo formeranno l'Università del Monte di Brianza. Tre erano le strade brianzole citate nello statuto. In questa immagine mostriamo i paesi toccati da esse. La strada di Linguarda, i cui paesi sono evidenziati in giallo. La strada di Monza, in rosso. E la strada di Lissone, in arancione. Oltre a queste vi erano due ulteriori strade che interessavano la zona di Vimercate e Melzo, ma che, proseguendo in area non brianzola, non saranno oggetto di questo video. Notiamo subito che in realtà le strade brianzole erano due, ovvero la strada di Niguarda e la strada di Monza. La strada di Lissone era solo una variante di quest'ultima. La ragione della biforcazione della strada di Monza deriva dalla diversa e più complessa morfologia del territorio, rispetto a quello della strada di Niguarda. Quest'ultima procedeva verso nord fino al ghisallo, incontrando le comunità disposte su entrambe le sponde dell'Ambro, senza incontrare improvvise barriere naturali, e disegnando perciò un tracciato rettilineo facilmente individuabile. Per contro, le strade di Monza e di Lissone dovevano superare numerose barriere di acqua e di terra. A ovest, per la strada di Lissone, citiamo il faticoso attraversamento dell'Ambro, nel tratto tra Triugio e Lesmo, con lo strategico ponte di Canonica Lambro, e i valloni della roggia Brovada e del torrente Pegorino, affluenti di sinistra dell'Ambro, che scendono da Besana. Verocibilmente, proprio a Canonica, avveniva la biforcazione tra le due strade. Dopo Besana e Monticello, vi era un ostacolo di roccia, da superare verso nord, ovvero la dorsale di alta collina Lissolo-Montevecchia, e numerosi ostacoli di acqua, ovvero l'attraversamento dei rami inferiori del torrente Molgora, e dei suoi affluenti come il Lavandaia e il Curone, nel territorio di Missaglia, Casatenovo e Lomagna. Oltre alla valle del Curone, il taglio naturale delle valli di Rovagnate, scavate a ovest dal torrente Bevera, affluente di destra dell'Ambro, e a est dai rami superiori del Molgora, di Santa Maria Ore, e Mondonico, alle pendici del Massiccio del San Genesio, ma meglio chiamarlo con l'antico nome di Monte di Brianza. Se consideriamo tutti questi ostacoli naturali, a cavallo tra le province di Monza e Lecco, è ragionevole ipotizzare che nei tratti superiori delle strade di Monza e Lissone non esistesse un tracciato univoco, bensì un reticolo di vie minori, che convergevano a sud nell'imbuto di Canonica, sia per chi proveniva da Besana, cioè dalla strada di Lissone, sia per chi proveniva da Lesmo, cioè la strada di Monza. Se la strada di Niguarda, in direzione Vallassina, e le strade gemelle di Monza e Lissone differivano per l'andamento dei tracciati, molte sono le caratteristiche comuni. Innanzitutto esse correvano in parallelo, in uno strettissimo corridoio iniziale, in uscita da Milano, tra le medievali Porta del Passeglio, Porta Scomparsa, che era presente vicino a Corso Garibaldi, e per Niguarda e Porta Nuova, per Monza e Lissone. L'allargamento della forbice tra le due strade avveniva invece in corrispondenza della fascia di alta pianura, poco nord di Monza, fascia nella quale erano sorti molti dei borghi, di cui abbiamo diffusamente parlato nella spiegolatura precedente. Mugio, Biassono, Lissone, Vedano e Arcore per la strada di Monza, Desio, Seregno e Carate per la strada di Niguarda. Ricordiamo che i borghi erano comunità alle quali erano stati concessi privilegi e immunità, in ragione della loro posizione strategica a difesa di Milano. E in effetti, le località appena citate formano una sorta di corona a nord del capoluogo. Ma discorso a parte valeva per Monza. Il borgo di Monza godeva di uno statuto speciale, con ampia autonomia amministrativa, in ragione della sua dignità di corte imperiale. Perciò lo statuto delle strade prevedeva l'obbligo per le sole domus monzesi degli umiliati di reconzare, ossia ripulire, la strada di Monza, nel tratto che partiva dalla chiesa di Sesto San Giovanni in direzione appunto di Monza. Lungo la strada di Niguarda vi erano altri tre borghi, Mariano, Cantù e Montorfano, chiaro allineamento verso la città nemica di Como, mentre lungo la strada di Monza, in direzione di Lecco, vi erano i borghi di Civate e di Merate, in territori esposti all'influenza dei nemici torriani. A nord della fascia dei borghi monzesi, nell'alta pianura milanese, entriamo nella fascia di collina. Qui il presidio del territorio era garantito anche dall'antica nobiltà locale. Cittiamo per la strada di Monza gli nobili, ovvero le dimore dei nobili, da Casanovo, Casate Novo, e da Massaia, Missaglia, mentre per la strada di Niguarda i due Castel di Cascina Gatedo e Incasate, oggi frazioni di Mariano. La piazza, o piazza d'armi di Agliate, e le tre Castellanze, di Agliate, Orsenigo ed Erba, nonché gli Zentilomini, ovvero la dimora dei nobili Erba. Diamo ora un'occhiata ad alcuni dati ricavabili dallo Statuto delle strade, ricordando che il contributo alla manutenzione delle strade era calcolato in braccia, corrispondenti al numero di abitanti sopra i sei anni d'età. Ebbene, il contributo dovuto alla città di Milano, cioè il peso fiscale e demografico, era di 16.199 braccia per la strada di Niguarda e di 16.466 braccia per le strade di Monza e Lissone. Dunque, la popolazione dei due territori era praticamente identico, così come molto simile il numero di paesi elencati, cioè 160 per Monza e Lissone e 136 per Niguarda. E dobbiamo anche tener conto che quest'ultima strada terminava in Valassina, che il compilatore cita come unico soggetto di imposta, ma la Valassina era formata da numerosi villaggi, che in altre zone sarebbero stati considerati come comuni, autonomi fiscalmente e separati tra loro. Piuttosto diversa era invece la distribuzione dei residenti sul territorio, ossia di coloro che pagavano le tasse. Infatti, nella strada di Monza e Lissone vi erano sette borghi, mentre per Niguarda ve ne erano sei. Ma nel caso di Niguarda i sei borghi ospitavano il 32% di tutti gli abitanti della strada, mentre nel caso di Monza e Lissone gli abitanti dei borghi rappresentavano solo il 20% del totale. A conferma della maggiore dispersione abitativa lungo le strade di Monza e Lissone vi è il dato relativo alla percentuale di braccia, ovvero di contribuenti, che abitavano nei locchi, ovvero villaggi di modeste dimensioni. Nel caso della strada di Niguarda è il 48%. Nel caso delle strade di Monza e Lissone il 73%. Con ogni probabilità la differenza è determinata dalle differenze morfologiche del territorio. Alta pianura, nel caso di Niguarda, collinare, nel caso di Monza e Lissone. I dati dello statuto ci dicono però una cosa interessante e sorprendente. Nella strada di Niguarda abbiamo come soggetto di imposta unico l'intera pieve della Balassina, la quale rappresentava da sola l'11% delle braccia o dei contributi versati da tutta la strada di Niguarda. Restano da considerare le cascine o luoghi con cascine e più in generale quei micro luoghi oggi isolati nella campagna brianzola ma che sette secoli fa non solo esistevano ma erano comunità autonome. Valgamo di esempio il territorio di Missaglia che nel 1346 risultava articolato in vicini di Missaglia la parte bassa del paese nobili di Missaglia la parte alta torre sopra Pirovano Molinata Rengione Missagliola Tegnoso Contra Maresso Alvareda e Valle Santa Croce Ancor più impressionante per antichità e numero di insediamenti è il caso di Besanabrianza nelle tre strade considerate già compaiono le seguenti località oggi semplici frazioni e vie di Besana Besana di Sotto Besana di Sopra Balgano Brugora Calò con le Cascine di Borgo Nuovo Casaglia Cascine Riva con Fonigo Cazzano Montessiro Naresso Rigola Valle Guidino Vergo con Zoccorino Villa Raverio con Menzonico e Rosnigo oggi sono semplici frazioni ma ben diversa era la realtà di sette secoli fa per esempio il monastero di Brugora fondato nell'undicesimo secolo aveva estese proprietà proprio in coincidenza col ponte di Canoni Calambro lo snodo fondamentale delle strade di Monza e Lissone le colline brianzole tra le chiese e monzese un polmone verde che nasconde però una storia umana antica in uno dei futuri video torneremo sullo statuto delle strade analizzando altri territori dell'antico contado di Milano alla prossima settimana amici del Bruco grazie a tutti per la visione